la persiana giulia salemi impegnata in queste settimane come esperta social all'interno del grande fratello vip ha sfoggiato nel corso della quindicesima puntata del reality show di canale 5 un altro look a dir poco spettacolare apprezzatissimo su twitter e anche dallo stesso alfonso il pubblico televisivo ormai è perfettamente consapevole che giulia salemi indosserà ad ogni singola puntata del reality un outfit che farà girare la testa a uomini e donne anche stavolta come da previsioni la subret non ha deluso le aspettative per l'occasione la salemi si è messa indosso un abito piuttosto scollato di colore nero attillato che ha messo in bella mostra il seno senza risultare volgare e il suo fisico assolutamente perfetto il prodotto scelto da giulia salemi è incluso nella prima capsule collection di nancy dojaka in esclusiva per il brand my teresa ed è caratterizzato da un corpetto in stile bralette dei cut out e da una siluetta aderente si tratta di una scelta di stile perfetta per il fisico della salemi in questo periodo in particolare più longilineo che mai neanche a dirlo il pezzo dell'outfit non è esattamente alla portata di tutti sul web l'abito è disponibile a 795 euro un prezzo in linea con molti altri prodotti simili del brand che si attestano tutti tra gli 800 e i 1000 euro circa la presentazione di giulia salemi in puntata è ormai un'occasione per farle fare una vera e propria sfilata alfonso signorini ha accolto l'influencer in puntata come una vera regina con uno dei suoi classici vabbè e la bocca spalancata per la meraviglia dopo averle fatto fare un giro su se stessa come se stesse ballando con lei signorini ha chiesto lumi alla salemi sull'outfit e quando la ragazza gli ha svelato che aveva firmato il vestito signorini si è mostrato confuso lo sono fermo a versace ha commentato divertito il presentatore che ha subito rimandato giulia al suo posto peccato solo che la fidanzata di pierpaolo pretelli venga inquadrata così poco in trasmissione così è un vero spreco